buongiorno a tutti ragazzi come state spero tutto bene allora oggi è una giornata particolare perché ovviamente essendo il primo di novembre oggi è festa per i più poi qualcuno a cui tocca lavorare ci sarà sicuramente e mi dispiace ovviamente perché il giorno di festa è bello da vivere no anche un po in famiglia ma non solo è il primo novembre quindi giorno di festa rosso sul calendario ma oggi anche il compleanno della juventus oggi è il 126esimo compleanno della juventus e dato che detta proprio come vuol detta di roba da dire ce n'è poca oggi e quindi anche questo video sarebbe pure superfluo ho voluto fare due parole proprio per ricordarci un attimino quello che è la storia della juve quindi non ci saranno analisi non ci saranno approfondimenti approfondimenti né opinioni su notizie che vengono date perché oggi credo che sia molto di riposo anche dentro il mondo del calcio no credo che dal punto di vista delle informazioni si avrà poca roba proprio perché il fatto che si fermi gran parte dell'italia andrà a limitare anche questa roba qui però non volevo lasciarvi senza due parole e secondo me sono anche dei momenti questi qua necessari per ritrovare un po se stessi e il senso di juventilità io ogni tanto quando avverto che la juve è distante rispetto agli standard che piacciono a me di juve mi guardo il braccio no quando l'anno scorso nel momento più difficile dell'anno della stagione anche della storia recente della juve sono andato a farmi questo tatuaggio è perché avevo necessità di unirmi proprio anima e corpo con un messaggio fino alla fine che a me piace molto juve a parte credo che sia anche proprio un modo di intendere la vita e l'ultima partita della juventus prima del 126esimo compleanno descrive la perfezione no questo motto perché finché la partita non è finita c'è sempre quell'opportunità e quell'opportunità se l'ha andata a prendere andrea cambiaso che qualche anno prima invece era sceso in campo come raccatta palle mi pare genua juventus ho visto qualche foto qua e la sui social network e allora vi dico dato che abbiamo un po respirato l'aria di juventinità uso questa parola perché ce la stiamo scordando da un po in occasione dei 100 anni della presidenza agnelli e sui 126 anni di storia si capisce bene quanto sia stato influente la famiglia agnelli all'interno della juventus anche se oggi non c'è un agnelli vero e proprio la gestione della juventus bensì un elca stiamo parlando comunque della stessa della stessa famiglia e ovviamente sto parlando di quella grande festa che c'è stata a torino qualche settimana fa durante la pausa nazionale quello è stato un momento meraviglioso è stato un momento meraviglioso in cui abbiamo rivisto tanti giocatori che ci hanno fatto battere il cuore purtroppo nemmeno tutti sarebbe stato meraviglioso abbracciare tutti i più grandi della storia della juventus e secondo me queste giornate qua devono farci riflettere proprio dal punto di vista del momento della juve che non è un gran momento lo sappiamo abbiamo già parlato tante volte io ogni volta che sento dire che la juventus non è questa roba qui non è più questa roba qui concordo perché semplicemente siamo stati abituati ad altro anche nel recente passato nel ciclo dei nove scudetti consecutivi io ricordo benissimo la sensazione pre vittoria del primo scudetto di Conte perché io sono un tifoso tra virgolette perché ormai non lo sono più nemmeno io ma della nuova generazione rispetto a chi ha vissuto i Zidani i Platini, tutta la carriera di Del Piero, i Baggio purtroppo non è stata roba per me perché ero troppo piccolo e ho iniziato a seguire veramente assiduamente la juventus a mettermi lì sul divano a guardare tutte le partite dall'anno della serie B e quindi credo che sia stato anche una sorta di purgatorio iniziale quello che mi ha poi legato ai colori bianconeri e io mi ricordo la sensazione prima del primo scudetto targato Conte anche se si facciano delle annate fatte bene vengono in mente quelle di Ranieri i primi anni di Serie A o si facevano delle annate fatte male mi vengono in mente Zaccheroni, Del Neri, Ferrara e tutta quella compagnia cantante di allenatori che abbiamo visto volte anche più allenatori in una stessa stagione come nel caso di Ferrara io me lo ricordo e pensavo ma la Juve che è sempre stata una squadra che storicamente vinceva non può essere sta roba qui mio papà mi aveva sempre raccontato delle juventus che vincevano guardi il palmarès la juventus è avanti a tutti e io invece ancora non l'ho vista vincere quella è una roba che mi ha sempre logorato e poi se penso banalmente all'Europa io l'anno scorso ho sperato tantissimo di portarmi a casa un titolo europeo perché semplicemente non ho ancora visto la juventus vincere un titolo europeo e di questo mi dispiace tanto e quindi un grande rispetto per la storia ma con la consapevolezza che quella storia deve essere ripetuta che debba essere ripetuta perché siamo la juventus e juventus è sinonimo di vittoria quindi anche in questi momenti in cui pensiamo che sarà difficile ritornare a quei momenti lì non dobbiamo mai dimenticarci che ci siamo già passati che la storia è ciclica e che prima o poi toccherà nuovamente a noi sia in Italia e magari anche in Europa o quella che sarà l'Europa perché magari non ci sarà nemmeno più il format della coppa dei campioni perché dobbiamo mai dimenticarci che la Juve è la Juve e in questi momenti qua in queste giornate qua ha maggior ragione prima ero su twitter stavo scrollando un pochettino intanto che guardavo un po' tutta questa roba legata alla storia della Juve mi è apparso un retweet di Marco Rogerio che ho tra l'altro commentato il post originale era di dare pigne come montero che scrive i vostri 5 giocatori che avete amato di più nella vostra vita da tifosi bianconeri hashtag Juve126 tosta i primi 5 giocatori che avete amato di più la classifica di Marco era al primo posto Nedved al secondo posto Buffon al terzo posto del Piero al terzo posto Tevez al quarto posto di Bala e al quinto posto a pari merito Iguain Vidal, Camoranesi e Pirlo ci sono dei nomoni eh dei nomi veramente grandi e io gli ho scritto guarda ne condivido tanti ma non possono mettere Gigi, Buffon, David, Tresguet e Giorgio Chiellini e lui mi ha detto Buffon mea culpa l'ho sempre dato un po' per scontato forse perché era il numero uno anche in nazionale e allora lì mi si è aperto anche un mondo perché ho detto cavolo è naturale certi giocatori li dai per scontati sono quei giocatori che arrivano a fondere letteralmente le loro carriere col bianconero e per me questa roba è meravigliosa perché io sono convinto ma ne sono sicuro di essermi innamorato del calcio e della Juventus per questo signore qua quindi nella mia classifica questo signore qua va al primo posto Alessandro del Piero quel gol alla Germania e poi tutto quello che è successo pochi mesi dopo essere diventato campione del mondo andando in serie B con la Juve per legarsi per sempre alla Juve e quindi il primo posto è meritato di questo signore qua il secondo sempre di qua è quest'altro signore qua Gigi Buffon quelli sono in assoluto i due giocatori che io ho amato di più di più in assoluto di più perché sono quelli che mi hanno veramente dimostrato che cazzo voleva dire essere juventini anche in quel momento lì nel top del top del top della carriera la Juventus prima degli altri anche a costo di fare qualcosa che non si era mai visto giocare la serie B da campioni del mondo cioè se sono diventato così tanto amante della Juventus io lo devo a quei due lì e sono stati anche degli esempi, degli insegnamenti proprio nel vero senso della parola poi è ovvio che io in questa classifica non posso non mettere Nedved, Treseguet, Camoranesi per lo stesso principio, per un motivo o per un altro magari non gli stessi status del Piero e Buffon ma comunque stiamo parlando di un altro campione del mondo che era Camoranesi, di un pallone d'oro che era Nedved di un giocatore che aveva appena finito di giocare a una finale mondiale e persa proprio contro l'Italia e ha deciso di rimanere in Italia poi non possono mettere Chiellini per quello che è stato poi nel posto del Piero e Buffon non possono mettere nemmeno io Tevez, Dybala, Higuain, Vidal, Pirlo perché sono stati giocatori meravigliosi ma ragazzi ma guardate che fare la classifica dei primi cinque ma è veramente complicato perché se dovessi fare la sola dei primi cinque probabilmente sono quelli che con uno status internazionale sono scesi in B e cosa facciamo? Lasciamo fuori Chiellini? Cosa facciamo? Lasciamo fuori Pirlo? Cosa facciamo? Lasciamo fuori Tevez, Dybala, Higuain e tanti altri che non stiamo citando perché anche il primo Pogba per me è una roba meravigliosa meravigliosa perché l'emozione di dire tesseriamo Cristiano Ronaldo è qualcosa di meraviglioso poi non tutti sono su quel livello lì di amore o di riconoscenza sto dimenticando Claudio Marchisio con altri quelli che non si può non inserire sto dimenticando Andrea Barzagli per quello che è stato oppure Leonardo Bonucci con degli asterischi come ci devono essere gli asterischi per dire con Cristiano Ronaldo però sono tanti giocatori e stiamo parlando solo quelli del recente passato della Juventus ignorando tutti quelli che sono stati invece delle vere e proprie colonne portanti negli anni precedenti è tanta roba sta roba qui ragazzi quindi io so che è difficilissimo ve lo chiedo nei commenti magari qualcuno di voi ha voglia di cimentarsi in questo esercizio difficile cioè i 5 giocatori che avete amato di più io me ne ho elencati credo 15 i primi due posti li so gli altri 3 devono essere divisi un po' con tutti questi sicuramente ne ho lasciati indietro altri me li sono dimenticati ma è veramente complicato veramente veramente complicato questo proprio perché oggi secondo me è giusto anche ritrovare quella vena quell'emozione questa è la conclusione del video mi prendo gli ultimi 30 secondi per chiedere scusa a tante persone che nel video di ieri quello da un'ora e mezza mi hanno detto che era inutile caricare quel tipo di contenuto e io concordo inizialmente nemmeno lo volevo fare e nel video ho spiegato anche le motivazioni però io credo che quando poi si arrivi al punto di mettere in discussione le parole di un'altra persona rigirandole un po' come si vuole non sia proprio bellissimo e quindi credo che quella risposta fosse dovuta e necessaria tante persone magari non l'avranno visto e non sono nemmeno interessate ci mancherebbe altro volevo rispondere a tanti commenti che sono andati in quella direzione lì proprio perché ho letto che tanti non sono stati d'accordo con quel video e comprendo e condivido anche il loro pensiero ma chiedo di aprire un po' di più la veduta e guardare anche quello che era il mio punto di vista e il motivo per cui invece poi ho deciso di caricarlo ciao ragazzi vi auguro un buon primo novembre ricordandoci che in queste giornate qua il legame con la Juventus deve farsi ancora più più forte deve diventare ancora più saldo anche in un momento in cui le cose non stanno andando come vogliamo ma prima o poi la Juventus tornerà a fare la Juventus di questo ne sono sicuro ciao